Come dice sempre anche Silvano Petrosino, i temi proposti dallo spazio a Smara sono sempre temi grandi, cruciali, impegnativi. Quindi non è soltanto un modo di dire che si usa spesso per mettere avanti le mani, ma questo del prendere posto, del posto, di un posto dove collocarci nella vita è un tema assai complesso in sé, ma anche, e quindi, è proprio a specchio, anche la scrittura ce lo propone come complesso, pieno di sfaccettature e di distinzioni, di ambiguità, di problematicità. Ecco, io volevo fare una breve, brevissima premessa, anche perché poi credo che, anzi sono certo che l'incontro proprio con il filosofo Petrosino ci aiuterà a chiarire meglio gli aspetti e le implicazioni di tipo antropologico, culturale, contestualizzate, cioè nella nostra tradizione culturale, di questo tema, di questa questione. Ecco, però, così faccio una breve premessa giusto per far capire un pochino questa complessità. E prendo il tema, lo colgo, come un'immagine simbolo di quel processo di identificazione personale e del bisogno che questa identificazione personale ha sempre di un riconoscimento e quindi si capisce subito l'enormità del problema, della questione. Ecco, perché ci sono, è problematico il posto, no? La nostra vita è fatta di tanti posti, la nostra identità è caratterizzata in tanti modi, il posto di lavoro, la casa, la chiesa, gli amori, Dio non voglia, ma insomma ci sono, gli odi, tutti questi sono posti che noi di volta in volta occupiamo, dentro ai quali agiamo. Ma poi l'ambiguità, la problematicità dei verbi o dei gesti che questi verbi indicano, Prendere non è lo stesso che collocarsi, accogliere, non è lo stesso che rubare un posto, non è lo stesso che contendere un posto a un altro. E poi la problematicità, già evocata in questo contendere, del fatto che nella nostra ricerca di un posto noi siamo insieme a tutti gli altri che ugualmente cercano un posto. E qualche volta vogliono proprio il nostro, o noi il loro. Ecco, allora, no, si capisce, è una questione che sollecita, che indica, che evoca subito una inquietudine, una dinamica, un posto non è il posto di cui cercheremo di parlare, non è un luogo statico, non è uno stato, è una dinamica, è sempre in movimento. I posti sono passaggi, i posti sono occupati in un momento e poi... E poi... Va bene, ma io qui mi fermo perché, ripeto, volevo soltanto anche creare l'attesa per la serata che Silvano ci regalerà e che penso sia giusto attenderla con la... perché è promettente. Ecco, quindi lui ci chiarirà alcune cose. probabilmente, conoscendolo, visiterà anche alcuni dei testi o dei brani biblici a cui io farò riferimento, ma fa niente, insomma. E questo non farà che confermare eventualmente la bontà delle scelte fatte. Ecco, vorrei fare con voi sei passi, sei passaggi, senza però dirvi prima la logica, anche perché non sono sicuro che ci sia, quindi se c'è una logica apparirà nel cammino. Sicuramente, però, vi dico all'inizio che tutto è molto provvisorio e che non ci sarà una conclusione. Cioè, noi non approderemo a un posto dove potremo fermarci e dire siamo arrivati. Questo, credo, proprio la scrittura non ce lo consente. ma forse non sono stato capace io di individuare, insomma. Adesso cominciamo questo percorso e poi direte voi. E partiamo dall'inizio. Primo passo, il posto ci viene donato, regalato, anche se poi vedremo. Cioè, la scrittura ci indica un'origine e un compimento come il luogo di scaturigine, il luogo fontale dell'umano e la sua destinazione. Tuttavia, nel frattempo, cioè nel tempo che sta tra questi due momenti, l'origine e il compimento, e come vedremo nel secondo passaggio, sia pure molto brevemente, si scatena anche una lotta, un conflitto. Vediamo allora l'origine e il compimento. Bene, Genesi 1, grande racconto, canto della creazione, è ritmato dalla distinzione. Dio separa la luce dalle tenebre, il giorno dalla notte, le acque dalle acque, le acque dall'asciutto. Perché? Perché ciascuno, ciascun essere, questo è così, almeno si può intendere, è uno dei sensi che possono essere intesi in questa pagina, perché ciascun essere abbia il suo posto e il suo posto non sia quello di un altro. C'è un'insistenza, per esempio, sul fatto che appunto le acque non devono invadere l'asciutto. Cioè, Dio stabilisce dei limiti. Ogni essere ha il suo posto, ma appunto da questo posto è limitato rispetto ad altri. non può, le acque hanno il loro posto, e lì è giusto che ci sia l'acqua, però le acque non devono invadere l'asciutto. Gli alberi hanno ciascuno secondo il loro seme, ciascuno secondo la loro specie, eccetera. Insomma, nel quadro dipinto da Genesi 1 c'è un ordine. Un ordine che non è a servizio di una rassicurazione di chi lo ha messo in atto. Sapete, no? Quelli che hanno la mania dell'ordine in genere sono persone insicure. No, io sono uno di questi. E quindi lo so. Mettere ordine nel proprio posto dà l'illusione che il mondo sia un po' meno in disordine. Ma è un'illusione. Poi dopo ci si giustifica dicendo, eh, ma così trovo le cose, eccetera. Ma in realtà appunto è che uno cerca almeno dove può di far quadrare i conti. ecco, di mettere un ordine che invece, di cui invece la vita, magari la sua, non è espressione. In ogni caso, in ogni caso, questo quadro dipinge un ordine e questo ordine è a servizio della vita. Perché ciascun essere possa essere se stesso, non deve essere un altro e quindi ha il suo posto e non può occupare il posto di altro. Venire al mondo, cioè trovarsi nel mondo, vuol dire avere un posto proprio ed essere voluti come esseri particolari che hanno appunto un posto. Come esseri, addirittura, nel caso dell'uomo e della donna, come esseri unici. Unici. E quindi, e quindi anche qui, capite, non c'è soltanto un posto per l'umano. C'è un posto, come sentiremo dire quando Gesù evoca il compimento, nella casa del Padre c'è un posto per ciascuno. C'è un posto per ciascuno. Ecco, nel capitolo secondo Dio crea l'Adam, lo fa con la terra, con l'argilla, e poi dopo però il narratore dice che la terra era deserta. Era deserta perché? Perché il Signore Dio non aveva fatto piovere. Quindi, una colpa ce la dire. Ma anche nessuno lavorava il suolo. cioè la terra, per essere un ambiente abitabile, accogliente, ha bisogno di un dono divino, ma ha bisogno anche di un servizio umano, il lavoro. Ecco, però, subito dopo si dice che il primo lavoro lo fa Dio. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Ecco, il posto primordiale dove l'umano può vivere e prosperare è un posto donato da Dio, fatto da Dio, e però affidato alla coltivazione e alla custodia dell'uomo. Il Signore Dio prese l'uomo, lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Si può anche tradurre perché lo servisse e lo osservasse, così come si osservano i comandamenti. Ora, servire e osservare si dice della parola, si dice dell'alleanza, si dice dell'uomo nei confronti di Dio. Ecco, cioè questo giardino, questo dono, questo luogo diventa qualcosa che per l'uomo parla della premura, dell'attenzione, dell'amore che Dio ha per la sua creatura. E l'uomo corrisponde con il servizio, è lo stesso verbo in cui si dice coltivare o lavorare si usa per dire il servizio liturgico, la liturgia, si usa per dire anche il lavoro servile, si usa per dire coltivare, appunto, si usa Gesù dirà è il verbo della fraternità, servitevi, fatevi servi gli uni degli altri. Ecco, però qui è interessante, è il giardino, il luogo che ci viene donato, il luogo naturale, è per noi come una parola, in Salmo 19 lo dirà e lo farà pregare esplicitamente questa idea. ecco, però, e qui si potrebbe lavorare su questo, siccome lo coltiva, lo custodia, il modo per custodire il giardino è coltivarlo e il modo per coltivare il giardino è custodirlo, non distruggere, eccetera, va bene, ma su questo appunto si siamo già intrattenuti altre volte. Quello che qui interessa notare è che una volta che Dio ha messo l'uomo nel giardino gli pone anche un limite. Tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male o, come suggerisce di tradurre Wenen, dell'albero del conoscere bene o male non devi mangiare perché quando tu ne mangiassi certamente moriresti e a questo proposito Andrei Wenen sottolinea, dice, che intorno a questo albero del conoscere bene e male, bene o male, si intende le cose, se stessi, Dio, intorno a questo albero l'uomo e Dio dovranno imparare a conoscersi e a conoscersi bene o male, si potranno conoscere male o si potranno conoscere bene. Questo è uno dei luoghi, questo è uno dei luoghi di incontro tra Dio e l'umano. Allora, ciascuno ha il suo posto, il posto che Dio assegna all'umano è un posto che richiede all'umano delle attenzioni, coltivare, custodire, non mangiare tutto, porre un limite alla propria voracità, porre un limite al proprio, no, alla propria autoimposizione e poi la constatazione. Il Signore disse non è bene che l'uomo sia solo, gli voglio fare un aiuto che gli stia di fronte. cioè che lo aiuti a sapere che lui è qualcuno ma non è tutto e che di fronte a sé ha un altro, un'altra che è qualcuna e non è tutto. Di nuovo il tema del limite. Allora, il posto diventa anche il posto che occupo, certo, un posto che mi è stato dato ma un posto che deve considerare anche il posto altrui o i posti degli altri. E qui però si scatena il dramma e Genesi 3 lo rappresenta addirittura nei confronti di Dio. il serpente suggerisce un sospetto. Non è che nel dono che Dio vi ha fatto del giardino c'è un retroscena? Cioè c'è una scena nascosta? Non è che in primo piano sembra sul palcoscenico sembra che Dio sia tanto buono e generoso ma dietro le quinte ha tenuto qualcosa per sé di assai prezioso e vuole impedire a voi di espandervi cioè di prendere più posto anzi di prendere il suo posto. Il serpente disse alla donna che ripeteva sia pure con qualche differenza significativa il comando che Dio aveva dato all'Adam dice non ne dovete mangiare ci ha detto Dio e non lo dovete toccare altrimenti morirete e il serpente le replica non morirete affatto anzi ecco il sospetto ma va vi ha detto una bugia Dio sa che quando voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio cioè prendereste il suo posto eccolo lì perfetto l'uomo e la donna sono tentati di prendere il posto di Dio riguardo al conoscere il bene e il male cioè sono tentati di farsi criterio assoluto di conoscenza a costo a costo di prendere il posto di Dio ora l'unico modo per prendere il posto di un altro è o cacciarlo o ucciderlo questa che è la rappresentazione plastica no come dire stilizzata del peccato ci dice che per la Bibbia peccare vuol dire uccidere Dio prendere il posto di Dio credersi Dio farsi misura del bene e del male in proprio senza quindi non in una relazione meno che mai nella relazione costitutiva che è quella a cui debbo la mia stessa esistenza dice ma va io sono al mondo per caso oppure mi sono fatto da me e quindi decido da me che cosa devo essere e che cosa devo fare ecco qui qui c'è il problema perché non è impedita la ricerca come invece sembra insinuare il serpente è proibito prendere il posto altrui cioè uccidere cioè uccidere quando Gesù parlerà del Satana almeno nel Vangelo di Giovanni dirà che è menzognero e assassino cioè dice le bugie uccide incita no alla menzogna e all'assassinio all'uccisione all'uccisione penso che uno dei dei non dico il comandamento più importante ma certamente uno dei divieti più importanti anche nel decalogo sia proprio non uccidere non uccidere non esercitare una violenza distruttiva ora che cosa qual è l'esito dell'aver dato retta a questo sospetto e dell'aver compiuto questo omicidio sia pure simbolico che l'uomo e la donna si accorgono di essere nudi e intrecciano foglie di ficco per farsene cinture cioè devono difendersi l'uno dall'altro e poi insieme si devono difendere da Dio si nascondono l'uno all'altra e si nascondono da Dio tant'è che poi arriva alle cerche e dice dove sei e dice mi sono nascosto perché ho paura di te è la prima parola che un essere umano che l'essere umano rivolge a Dio nella Bibbia e gli dice ho paura di te ecco se questa è la rappresentazione scusate io devo essere un po' sintetico ma se questa è la rappresentazione dell'umano e del suo cercare un posto anche se Dio ha già provveduto per lui un posto ma poi questo non fa terminare la ricerca evidentemente allora in questa ricerca ecco c'è Genesi dice attenzione perché si diventa menzogneri e omicidi ecco ma se questo è la vita se questa è la rappresentazione della vita la domanda è c'è la possibilità di essere giusti cioè umani realizzati senza togliere posto agli altri è possibile è possibile è difficile è difficilissimo ma non è impossibile Genesi ha già rappresentato questa questa possibilità nella figura di Noè il giusto che è l'unico giusto in un mondo di cattivi che sono cattivi come dice il testo di Genesi 6 perché sono violenti è la violenza che si diffonde e che corrompe la terra cioè sono all'assalto uno dell'altro però in mezzo a tutta questa corruzione male violenza è possibile essere giusti e questo è un disastro per noi è un disastro perché ci toglie gli alibi se dice che è possibile vuol dire che non è impossibile per noi sarebbe più comodo dire no è impossibile quindi e quindi smettiamo di farci troppe menate per cercare di essere giusti se non è possibile non è possibile punto e invece è possibile ma poi Genesi rincara la dose in tutta la l'ultima parte del libro raccontando la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli dove Giuseppe viene raffigurato come l'Adamo riuscito l'Adamo riuscito e questo appare in modo particolare in un aspetto Giuseppe non prende mai il posto di altri dopo essere stato tentato di prendere un posto che non è il suo cioè di porsi al centro della famiglia di Giacobbe a causa certo anche dei privilegi che il padre il vecchio padre gli accordava eccetera eccetera e dopo essere rimasto vittima dell'invidia dei fratelli che lo hanno venduto all'Egitto Giuseppe fa fortuna nella casa di Potifar il suo padrone e il padrone gli dà tutto in mano tutto e non gli chiede conto se non di e a un certo punto grazie all'innamoramento della moglie di Potifar nei suoi confronti di Giuseppe potrebbe addirittura prendere il posto di Potifar nel letto coniugare e che cosa dice Giuseppe dice no no perché perché il mio padrone mi ha messo in mano tutto e io non posso tradire la sua fiducia tutto ma una cosa no tutto ma non tutto quasi tutto ma non tutto cioè Giuseppe non cede a un delirio di onnipotenza Giuseppe mantiene un limite Giuseppe mantiene una distanza un rispetto Giuseppe è sempre messo nella condizione di poter prendere il primo posto ma accetta di stare al secondo posto che vuol dire accetta di stare al suo posto perché sapete è come il mondiale di calcio non è che tu dici l'Italia è arrivata seconda se l'Italia arriva seconda ha perso i mondiali cioè perché tutti si ricordano chi ha vinto non il secondo il terzo e il quarto quella lì vale per le statistiche ma insomma ci si ricorda chi ha vinto arrivare secondi vuol dire aver perso il mondiale non essere i secondi al mondo vuol dire aver perso il mondiale allora lui dice ma io non voglio vincere io non voglio non voglio non posso e non voglio prendere il posto di Potifar quando poi viene tolto dalla prigione e viene convocato dal faraone per interpretare i suoi sogni e l'interpreta con successo il faraone cosa gli dice tu sarai il secondo l'unica cosa che non potrai a cui non potrai ambire è il mio trono per il resto sei il padrone dell'Egitto e Giuseppe cosa fa? sta al suo posto non prende il posto del faraone interessante no? interessante perché guardate che grazie a questo il posto che Giuseppe occupa salva l'Egitto permette all'Egitto di vivere di sopravvivere alla carestia e infine quando Giuseppe ha riconciliato la fraternità ferita perché i fratelli sono andati in Egitto a prendere il grano lui li ha riconosciuti ma loro no e allora gli fa fare tutto un percorso eccetera di riconciliazione che cosa succede? che il vecchio padre Giacobbe muore e sentite la scena siamo proprio alla finale del libro della Genesi i fratelli di Giuseppe cominciarono ad avere paura capitolo 50 dato che il loro padre era morto e dissero chissà se Giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che gli abbiamo fatto allora mandarono a dire a Giuseppe tuo padre prima di morire ha dato quest'ordine direte a Giuseppe perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato perché ti hanno fatto male perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre cioè si appellano all'autorità del padre morto e all'autorità di Dio per dire a Giuseppe Giuseppe non vendicarti non farci violenza non vendicarti del fatto che noi ti abbiamo tolto dal posto che avevi nella fraternità tra i figli di Giacobbe ti abbiamo strappato il tuo privilegio perché dicono così perché temono che Giuseppe voglia fare esattamente questo prendere il posto del padre prendere il posto di Dio e quindi fare giustizia e la risposta di Giuseppe prima è un pianto Giuseppe pianse quando gli si parlò così i fratelli arrivano si gettano a terra davanti a lui dicono siamo tuoi schiavi eccoci i tuoi schiavi e Giuseppe parla e dice così non temete sono io forse al posto di Dio ecco l'Adam che non prende il posto di Dio ecco l'umano che non prende il posto di Dio che non si arroga lui di conoscere bene e male di giudicare di condannare di condannare se voi avevate pensato del male contro di me Dio ha pensato di farlo servire a un bene per compiere quello che oggi sia vera far vivere un popolo numeroso ecco dunque non temete io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini bello dice no ma non solo io non voglio prendere il posto di Dio ma voglio continuare a garantire a voi un posto per poter vivere questo è il posto di Giuseppe Giuseppe è colui che rende possibile la fraternità e la vita che rende possibile il futuro cioè Giuseppe è uno che fa posto ora Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto Giuseppe ha fatto posto alla sua famiglia ai suoi fratelli ai figli dei suoi fratelli cioè ai suoi nipoti ecco però a un certo momento c'è una sorpresa al versetto 24 si legge poi Giuseppe disse ai fratelli io sto per morire ma Dio verrà certo a visitarvi e vi farà uscire da questo posto da questo paese verso il paese che egli ha promesso con giuramento ad Abramo a Isacco e a Giacobbe Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così Dio verrà certo a visitarvi e allora voi porterete via di qui le mie ossa io non voglio stare qui neanche da morte non è questo il mio posto per sempre cioè Giuseppe fa un posto non prende il posto degli altri e tuttavia dichiara alla fine che il posto in Egitto è provvisorio è provvisorio per il popolo di Dio ma è provvisorio anche per lui Giuseppe cioè in Egitto è fuori posto è fuori posto una cosa che riprenderemo bene questa è l'origine ma il compimento lo dice Gesù l'ho già anticipato nel testo di Giovanni 14 quando dice ai suoi discepoli non sia turbato il vostro cuore abbiate fede in Dio e abbiate fede in me nella casa del padre mio vi sono molti posti se no ve l'avrei detto io vado a prepararvi un posto si intende un posto per ciascuno quando sarò andato e vi avrò preparato un posto ritornerò e vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io ed è il luogo dove io vado voi conoscete la via quindi Gesù ridice che c'è un posto per ciascuno che siamo al mondo per questo che non siamo come dire fungibili ognuno è unico è irripetibile e dice che però questo posto adesso non è disponibile è nella casa del padre dice però voi siete in via conoscete la via e Tommaso dice sì non sappiamo dove vai come possiamo conoscere la via e Gesù dice io sono la via la verità e la vita cioè tutta la vita e la missione di Gesù può essere intesa così ha come scopo l'incontro propiziare per ciascuno di noi l'incontro con il suo proprio posto nella relazione col padre cioè propiziare la piena assunzione della nostra condizione di figli di figli di figli ecco però vivere qui e ora vuol dire essere per via essere in cammino il posto allora non è un luogo è la relazione con Gesù e grazie a lui con il padre ecco il secondo passo brevissimo lo cito soltanto è la lotta mortale per un posto che Genesi ci racconta subito al capitolo 4 con Caino e Abele Abele scusate Caino non sopporta che Abele abbia un posto privilegiato sia pure momentaneo nella relazione con Dio e fa la cosa più ovvia elimina il problema cioè il fratello cioè il motivo della sua invidia e va bene ma un'altra coppia di fratelli è in lite per il posto per il primo posto per il posto da Benedetto da eletto e sono Esau e Giacobbe Esau povero tonto è così sicuro di averlo perché il primo genito che se lo lascia rubare stupidamente da Giacobbe e Giacobbe dopo questo furto è costretto a fuggire perché il fratello cerca di ucciderlo e poi dopo dovrà rincontrare il fratello e teme di essere ucciso e il fratello sorprendentemente lo perdonerà ecco ma potremmo continuare Marta e Maria Marta nel capitolo 10 di Luca cerca di distogliere Maria dal posto che si è presa ai piedi di Gesù non sopporta che la sorella faccia la discepola dice non sta bene tu devi fare la serva come me quindi qui c'è da preparare da mangiare cosa fai lì ascoltare fare la lezione divina qui dobbiamo fare la caritas adesso mica la lezione divina la mensa eccetera va bene cioè non è per niente scontato chiede una lotta il posto chiede una lotta e ci sono alcuni che insidiano il nostro posto e noi il loro e va bene dobbiamo passare anche attraverso questa questa cosa ma poi terzo passaggio c'è la condizione fondamentale dell'essere fuori posto e qui l'abbiamo già anticipato con la finale di di Genesi nel libro dell'Esodo a un certo punto quando Dio incontra Mosè a Roveto gli dice devi far uscire i miei perché in Egitto non stanno al loro posto e indica un posto un paese no bello spazioso dove potranno essere liberi dove potrà ciascuno avere il suo posto ma in maniera libera non sottomessi e tuttavia queste cose Dio le dice fuori posto perché non le dice in un santuario non le dice in un luogo caratterizzato religiosamente ma le dice da dentro un roveto che arde e che non consuma interessante la frase ebraica dice un roveto che bruciava ma la fiamma non lo mangiava non lo mangiava stesso verbo del non mangerai tutti gli alberi li puoi mangiare tranne uno ecco anche qui la fiamma non mangia non consuma il roveto e tuttavia appare in mezzo a un pascolo cosa ne sa Mosè che è il monte di Dio lo dice il narratore e il lettore ma Mosè non lo sa e da che cosa lo riconosce vede una roba strana ma poi sente una voce e la voce gli dice non ti avvicinare togliti i sandali cioè anche tu Mosè in questo momento sei fuori posto sei fuori posto e poi però gli dice la sua origine o meglio la sua ascendenza e dice io sono il Dio di tuo padre il Dio di Abramo il Dio di Isacco il Dio di Giacobbe un'ascendenza che Mosè se conosceva ha dimenticato forse non ha mai conosciuto è stato allevato dalla figlia del faraone e adesso è madianita quindi cioè della sua identità ebraica probabilmente alla sua identità ebraica non sta più pensando da tempo cioè il posto di Mosè è quello di essere figlio di quei padri e di avere per Dio colui che parla in questa voce e che dice che cosa che il suo popolo in Egitto è immiserito ho visto la miseria del mio popolo ho udito il suo grido conosco le sue sofferenze sono sceso per liberarlo per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso cioè un posto proprio uno spazio di libertà anche se poi dice certo è un paese dove ci sono tante popolazioni il Canoneo l'Ittita la Morreo il Perizzita e Mosè ora ha cominciato a pensare ecco cominciano le rogne non potevi darci un posto vuoto ma non ci sono posti vuoti cioè noi non possiamo in nessun momento della vita pensare che non ci siano altri poi per noi può essere una tragedia come come la descrive Sartre l'altro è un inferno oppure può essere una risorsa però non ci sono posti disabitati qualcuno ha già sempre abitato il luogo a cui noi siamo destinati o che è oggetto della nostra ambizione in ogni caso bisogna uscire bisogna affrontare un deserto e bisogna affrontare questo deserto in compagnia di lui ecco cioè il nome di Dio è questo Mosè dice chi sono io per andare dal Faraone per far uscire Israele dall'Egitto scusate per far uscire dall'Egitto gli israeliti Dio risponde io sarò con te io sarò con te cioè il nome di Dio è essere con non semplicemente esistere ma esistere per essere con allora il luogo di Mosè e il luogo di Israele nella Torah che è il libro che è il rotolo normativo per la fede e per la figura ebraica non è non contempla il possesso della terra quello viene dopo è fuori dal bordo della Torah per l'identità ebraica è sufficiente essere con il Dio che è con noi ecco certo il luogo allora è la relazione la relazione che Esodo chiama ma già in una retroproiezione che compare più volte in Genesi è stata chiamata alleanza ecco il Vangelo radicalizza questa visione perché non c'è più una terra luogo una terra promessa neppure come simbolo non c'è una terra noi siamo in Esodo direbbe Papa Francesco giustamente dobbiamo uscire da molte schiavitù ma per andare dove ma non è un problema perché non è la meta la questione ma la questione è l'uscita lo statuto del credente di essere in cammino di uscire e di essere però in cammino con Dio per cui prima la prima lettera di Pietro al capitolo 2 e poi la lettera agli ebrei al capitolo 11 diranno che noi siamo stranieri e pellegrini sopra la terra e gli stranieri e pellegrini sono quelli che per definizione non hanno un luogo nel momento in cui sono fotografati l'essere straniero o l'essere in pellegrinaggio non hanno un luogo perché non sono più nel luogo della loro partenza ma non sono neanche approdati non hanno neanche un luogo proprio quarto passaggio quarto passo lo chiamo così Dio fa sempre di nuovo posto e lo prendo da due testi di Isaia capitolo 56 e 57 e in sintesi vi dico così che in questi capitoli il profeta tratteggia il volto di Dio come colui che prende posto un posto che elegge il suo luogo privilegiato presso coloro che non hanno posto che sono esclusi per cui di qui deriverebbe almeno una una notazione di metodo se è vero che adesso bisogna per forza fare il sinodo perché l'ha detto il Papa e finalmente anche il presidente della CEI ha detto che bisogna fare il sinodo di allora facciamo il sinodo era un po' di anni che si diceva però va bene c'è sempre bisogno di un gesto d'autorità ma noi abbiamo cominciato prima a buon conto lo stiamo facendo da anni ma dico se uno deve fare sinodo e vuole vuole capire che cosa che cosa desidera che cosa ci dice il Signore oggi la prima cosa la cosa che non dovrebbe mancare di fare è di collocare quelli che lui stesso ha escluso no perché sono gli unici che conoscono il Signore perché perché il Signore abita vicino a loro sta vicino a loro loro saranno i primi a negare questa cosa diciamo talmente sfigati che sicuramente questo è il sedio certo che Dio non è con noi ecco però qui Isaia dice esattamente il contrario perché comincia dicendo così osservate il diritto praticate la giustizia la mia giustizia sta per rivelarsi uno dice oh cavolo bisogna far giudizio perché arriva arriva il castigatore e dice così no dove osservate il sabato no non non fate il male e poi dice non dica lo straniero che ha aderito al Signore certo mi escluderà il Signore dal suo popolo non dica l'eunuco ecco io sono un albero secco perché non deve dire così perché io dico io Signore dico che agli eunuchi che osservano i miei sabati preferiscono le cose di mio gradimento restano ferme nella mia alleanza io concederò nella mia casa e dentro le mie mura un posto e un nome migliore che ha figli e figli cioè questi figli esclusi questi figli adottivi questi recuperati questi scappati di casa eccetera dice sono la mia prole preferita io sono padre prima di tutto e soprattutto di costoro quindi chi mi può conoscere come padre se non prima di tutto e soprattutto loro quindi non è che uno fa il sino e dice invitiamo anche i laici e anche le laiche facciamo una concessione no li devi invitare se vuoi capire chi è Dio perché tu che li hai esclusi non lo sai più chi è Dio o te lo raccontano loro o altrimenti l'hai perso mi spiego penso di averlo detto chiaro ma la cosa è talmente vera che poi il testo va avanti e dice così alla fine nel secondo capitolo nel 57 dice così così parla l'alto l'eccelso che ha una sede eterna un luogo un posto Dio c'ha il suo posto ed è il suo posto eterno il nome è santo in un luogo eccelso no cioè sopraelevato è santo io dimoro ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati cioè io che sono il più alto sto col più basso per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli oppressi poi si rivolge al popolo che non è fatto di umili e di oppressi di gente che so e dice io non voglio discutere sempre né essere sempre adirato per lì no altrimenti davanti a me sarebbe venuto meno lo spirito e l'alito vitale che ho creato per l'iniquità dei suoi guadagni mi sono adirato l'ho percosso mi sono nascosto sdegnato eppure egli voltandosi se ne è andato per le strade del suo cuore ho visto le sue vie ma voglio sanarlo guidarlo offrirgli consolazione e come fa? gli manda come missionari gli afflitti ai suoi afflitti ai suoi afflitti di questo popolo santo che non ne vuole sapere di Dio e delle sue vie ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace pace ai lontani e ai vicini dice il Signore io li guarirò cioè questi che dovrebbero vendicarsi dell'afflizione e dell'esclusione che hanno patito saranno i missionari che riveleranno il cuore di pace e di guarigione di vita che è il cuore di Dio certo mica tutti gli afflitti gli esclusi sono così ecco ma se ci sono dei missionari che possono ricordare al popolo di Dio quello che costantemente tende a dimenticare sono gli esclusi i figli esclusi ecco allora quello che noi vediamo qui soprattutto nella profezia è evidente ma anche nei testi narrativi è che la Bibbia continuamente ci racconta perché noi prendiamo posto nel racconto nella storia con Dio cioè la Bibbia ti racconta Abramo ti racconta Mosè ti racconta Adamo e Eva ti racconta Giuseppe e dice prendi posto collocati in questa storia prendi posto assumi un protagonismo assumila per te questa storia tu puoi essere protagonista di una storia simile simile però ricordati di metterti dalla parte giusta ecco cioè di non metterti dalla parte dei superbi dalla parte degli oppressori dalla parte del faraone dalla parte ecco cioè è chiaro è chiaro che la parte giusta non è quella che vince non è quella che si arricchisce non è quella che comanda ma è la parte giusta è la parte che fa vivere e non quella che fa morire quinto passo adesso ho quasi finito eh quinto passo farsi posto a vicenda perché appunto non è sfuggito già da Giuseppe no dalla storia di Giuseppe che Giuseppe ritrova il suo posto quando ritrova pienamente quando ritrova la fraternità cioè quando il suo compito diventa ricostruire la fraternità ferita e far vivere i suoi fratelli e allora potremmo dire così il posto con Dio e l'essere con noi di Lui è la fratellanza e la sorellanza ecco il nostro posto di ciascuno di noi è un posto unico perché ciascuno di noi è unico è ripetibile originale ecco tuttavia non può essere vissuto se non tra altri unici irripetibili e originali cioè dentro una pluralità dentro un plurale dentro un plurale cioè il nostro posto è plurale è una comunità è una fraternità ma una pluralità di unici dove appunto noi dobbiamo addirittura in certi momenti esigere che sia riconosciuto il nostro posto noi abbiamo diritto a quel posto perché Gesù ha accettato di essere ucciso perché fosse chiaro che c'era un posto per tutti quindi è costato il suo sangue noi dobbiamo chiedere che sia riconosciuto il nostro posto dobbiamo prendere posto è la condizione anche per essere responsabili essere responsabili di qualcosa vuol dire appartenere a quella cosa ma vuol dire anche che quella cosa ci appartiene io devo poter dire che è la mia chiesa e non soltanto che io sono membro della chiesa cioè che la chiesa faccia di me quel che vuole no la chiesa non può fare di me quel che vuole è chiaro perché neanche Dio fa di me quel che vuole Dio vuole che io sia io e tuttavia io per essere io ho bisogno di voi anzi dice Giovanni 15 di più bisogna consegnarsi alla custodia prima di tutto e soprattutto dell'altro perché c'è un vignaiolo c'è una vigna c'è una vite e ci sono i tralci e i tralci senza la vite non sono niente ma la vite senza il vignaiolo non è niente e d'altra parte però se un vignaiolo non c'ha la vite che vignaiolo è e se la vita non è i tralci come fa a portare frutto straordinario no non è straordinario vuol dire che ogni tralcio è importante per la vite e quindi è importante per il vignaiolo però è chiaro no qui dice ragazzi però questa cosa funziona se c'è una consegna reciproca cioè un affidamento il vignaiolo si definisce addirittura nel suo nome il padre si definisce padre se ha dei figli se non ha figli e figli se non c'è la prole che padre è non è un padre dire che Dio è padre madre vuol dire che Dio ha dei figli se no non ha più un nome non ha un nome è un Dio è Dio è Dio d'altra parte noi siamo portiamo il nome del padre siamo quello che siamo perché siamo suoi figli e sue figlie cioè siamo la sua parentela siamo la sua discendenza siamo la sua discendenza e quello che c'è da fare appunto è di dire a tutti a cominciare da quelli che hanno meno motivi per pensare di essere parte di questo progetto che loro sono sono invece i primi a essere invitati a riconoscersi in questa parentela e allora qui c'è una gara a far posto all'altro no? cioè Gesù dice oh senza di me non potete fare niente ma di sé ha detto io senza il padre non posso fare niente e il padre quando parla dice oh senza i miei figli che meraviglia no? mica parla di sé parla dei figli un padre parla dei figli i figli parlano dei loro fratelli e del padre ecco c'è questo allora qui noi prendiamo posto offrendo posto facendo posto ma anche esigendo reciprocità perché per funzionare questa roba deve essere reciproca cioè è chiaro no? uno dice no beh scusa però se l'amore è gratuito tu lo dai e poi no ma io lo do ma la mia attesa è che ci sia reciprocità no? se non nei miei confronti almeno vedere no? che 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 però appunto no? l'amore contagia no? si diffonde moltiplica cioè fa vivere fa vivere fa vivere fa vivere certo una reciprocità sempre aperta sempre aperta nella quale chi entra porta in dote gli esclusi perché lui prima era un escluso se entra adesso è incluso quindi porta in dote la sua esperienza di escluso ma anche l'esperienza dei tanti che ancora restano esclusi e che devono essere ai quali deve essere fatto posto bene l'ultimo passaggio è questo ci sono nel Vangelo due posti rinunciabili cioè due personaggi senza i quali non si può raccontare il Vangelo infatti tutti i Vangeli no? tranne Luca che la racconta però la racconta che Luca in un altro modo ma la racconta sia pure però anche lui in un passaggio cruciale due personaggi non possono non essere ricordati se si vuole raccontare il Vangelo e sono Giovanni Battista e la profumiera di Betania di Giovanni Battista la cosa è nota tutti i Vangeli iniziano raccontando Giovanni Battista tutti anche Giovanni anche il quarto Vangelo della seconda il primo Vangelo il più antico dice fa dire a Gesù che non si potrà raccontare il Vangelo senza raccontare anche quello che ha fatto lei oppure ovunque si racconterà il Vangelo si dovrà raccontare anche quello che ha fatto come dire quello lì è il Vangelo in miniatura quello lì è il Vangelo cioè non si può raccontare il Vangelo senza raccontare di una donna che ha fatto uno spreco incredibile per esprimere il suo amore a Gesù non si può cioè sono irrinunciabili e trovano posto nel racconto che fa posto a tutti nella salvezza di Dio e nella paternità e maternità di Dio perché hanno fatto posto nella loro vita a Gesù uno riconoscendo che lui non è al posto di Gesù io non sono lui e l'altra mostrando col suo gesto quanto valeva per lei il corpo del suo maestro come vedete questa non è una conclusione ma è così un modo per dire che appunto questi due di questi due e poi alla fine è Gesù che dichiara che hanno un posto perché Giovanni non si è presentato dicendo io sono il precursore io sono no è Gesù che dice lui è stato quello è quell'Elia che era atteso è Gesù che fa l'ermeneutica della missione di Giovanni Battista ed è Gesù che fa l'ermeneutica del gesto di questa donna che lo ha omaggiato dell'onore del profumo del balsamo che onora Gesù come re come re come messi va bene non so se scusate ma io ho finito qui non so se non so se